Sì, mi riferisco in realtà solo agli eroi quotidiani, ovviamente non è un'allusione ai supereroi dei fumetti e supereroi sono tutti i protagonisti di quelle storie che fondamentalmente finiscono bene e dettate appunto da una figura centrale che ha fatto sì che le cose andassero in quel determinato modo e in questo mi riferisco davvero a quelle storie per cui, che ne so, c'è un ragazzo magari che cresce in un contesto difficile ma alla fine ce la fa la mamma che si trova da sola senza il marito a fare due lavori per mantenere il figlio ma comunque ce la fa l'artista che tramite le canzoni, in questo caso posso essere io, comunque fa della terapia ai propri fan tutti questi sono i nostri supereroi moderni secondo me Credo che paghi sempre l'originalità, da una parte merito mio, dall'altra merito comunque di Carosello, del mio team le idee non è che sono venute tutte da meno, anche questa idea di dire no, non facciamo il videoclip del singolo, facciamo un cortometraggio io il cortometraggio ce l'avevo già in mente, però l'idea di buttarlo fuori come teaser del disco per esempio non ce l'avevo, l'avrei fatto e non avrei saputo quando utilizzarlo e credo che in comunicazione questo sia molto utile, perché comunque hai più robe di cui parlare hai più fattori che possono avvicinare la gente a te e poi c'è quello che sta alla base di tutto della mia carriera che è il divertimento se non mi diverto non lavoro bene, quindi comunque girare un cortometraggio mi ha divertito molto per quanto poi io sia scarso come attore e il fatto di creare uno storyboard per un fumetto mi ha entusiasmato scrivere i dialoghi, insomma è bello e in questo senso qua, anzi ma penso in tutti i sensi, è il mio disco preferito mi piace la copertina, mi piace il mondo grafico e mi piace tutto quello che sta affiancando il percorso ma in comune con me, a parte la faccia che il tipo mi ha fatto obiettivamente simile è il potere del fumetto, nel fumetto lui dice sempre la verità questo è il potere di Super Emis, se così vogliamo chiamarlo e è questo quello che è in comune con me nella vita reale nel fumetto va in giro mascherato, lui questo io nella vita non lo faccio e tanto meno sputo palle di fuoco dalla bocca però alla fine è un'enfatizzazione di quello che sono io, della mia persona reale allora io ho scelti tutti per un'esigenza musicale a parte appunto 6ix9ine che come dicevo è arrivato per una richiesta esterna è stato Pasciapigi a fare da tramite che ha tirato sul pezzo e poi è finito nel mio disco mentre per quanto riguarda tutti gli altri ti dicevo io ho scelti io Capo Plaza appunto spiegavo prima in conferenza, l'ho incontrato allo stadio siamo andati a vedere il Milan perché anche lui è milanista mi ha detto dai facciamo un altro brano, serio è andato una bomba facciamo una roba nuova per il disco e io ovviamente ero entusiasta di farlo e Car Brave è stato l'unico pezzo fatto a tavolino ma non nel senso che è stato studiato per una mossa di marketing nel senso che non avevo un pezzo con lui perché siamo due mondi molto diversi lui comunque fa una musica molto diversa dalla mia quindi mi sono proprio sforzato di andare all'incontro cioè volevo un pezzo con Car Brave perché sono sinceramente un suo fan quindi fino all'ultimo lo abbiamo anzi l'incorso abbiamo fatto due o tre tentativi prima ma non eravamo convinti abbiamo fatto un pezzo che poi in realtà è finito nel suo disco insomma l'ultimo pezzo comunque del disco alla fine è stato proprio quello con Car Brave alla fine ce l'abbiamo fatta e sono molto contento di questo se chiami gli autori a darti una mano che ne so come io faccio sugli incisi per cui chiamo Federica Bate che oltre ad essere per me la ghostwriter la melodista più brava d'Italia è anche come se fosse mia sorella e quindi c'è un rapporto vero e lì dico Fede non so non trovo una melodia su questo ritorno e non mi aiuti allora lei trova la melodia e poi scriviamo il testo molto spesso la maggior parte delle parole sono mie però praticamente le strofe sono mie e lei mi aiuta diciamo con le melodie no ci può stare o che ne so nell'esempio di Fuoco e Benzina in cui dicevo comunque che è la prima esperienza di Ghostwriting vera però questo perché lasciamo stare che Jake La Furia sia il mio rapper preferito ma in generale io non devo più dimostrare niente a nessuno ho sempre scritto tutte le mie canzoni per mille e milla dischi e quindi ti dico nessuno si scandalizza nessuno dice ah l'hai fatto perché non te le sai scrivere da solo è ovvio che se invece tenesci come progetto appunto a tavolino ma di marketing quindi perché sei belloccio hai una presenza sul palco, una bella voce ma interpreti i pensieri di un altro allora qual è un'altra questione il Ghostwriting vissuto come l'ho vissuto io in questo senso quindi che è una piccola razione diciamo di talento altrui che va a completare il tuo di lavoro è una cosa che in America si fa da sempre e lo fanno i big lasciamo stare Drake che è stato anche ha esagerato un po' in questo e l'hanno anche dissato però anche Kanye West, Jay-Z cioè se tu vai a leggerti i crediti di quei pezzi ci sono 40 persone c'è quello che mette le batterie quello che fa la melodia quello che dà lo slogan quello che addirittura c'era una leggenda dicevano che veniva menzionato persino quello che tipo portava l'acqua in studio perché secondo loro ha contribuito a creare l'energia cioè sono matti no? quindi in realtà diciamo non sono pro Ghostwriting nel rap se sei un novello se sei un veterano puoi permetterti di fare quello che vuoi che vuoi